1958 il Parlamento approva la legge Merlin 1909 Marinetti pubblica il manifesto del futurismo 1986 l'URSS manda in orbita il primo modulo del MIR commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo direttore dell'arena il catenaccio è un calcio così diverso da quello di oggi ho intenzione di parlare di Nereo Rocco